Sono qua per dare il meglio al mio calcio e giocare e spero che lo possa fare anche a Roma. L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre in alleamento, migliorare sia tecnicamente che fisicamente e farsi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Poi per me è una nuova esperienza, avevo bisogno calcisticamente di questa sfida e sono felice perché sono qua e darò il meglio del mio. Sono in Italia da quattro anni, ho imparato tante cose, mi posso adeguare a ogni sistema che vuole giocare mister. Poi sì, non ho giocato quanto volevo, ma sono qua per giocare, per fare un buon campionato e spero che sarà un bel anno per tutti qua. Come ho detto prima, avevo bisogno di una nuova esperienza calcisticamente, ma poi ho chiesto anche delle referenze ai amici e mi hanno detto che è una società forte, un allenatore bravissimo e questo mi ha convinto. Poi loro mi hanno voluto fortemente e questo mi ha dato la fiducia che farò una buona scelta. È stata la società che mi ha voluto più di tutte, anche il direttore di Carnevale, il mister De Zerbi e il preparatore dei portieri Farioli. Sono il mister De Zerbi, un grande allenatore, il mister Farioli lo è anche, è un mister giovane con cui ho avuto subito un ottimo rapporto, è una società sana e per questo ho scelto di venire qui. Da quando gioco a calcio sono uno che ha dei momenti che fa gol, sono riuscito a fare anche in Inghilterra, anche in Romania, poi spero che anche qua si possono fare e continuare così. Mi è piaciuto che la squadra vuole sempre giocare la palla, questo è importante perché sono abituato a questo modo di giocare, mi ricordo che anche l'anno scorso a Napoli abbiamo avuto difficoltà contro di loro e questo mi è piaciuto. Sì, penso che la società, il mister ha pensato molto alle mie caratteristiche, anche il suo modo di giocare e forse abbiamo qualcosa in comune e questo spero che sarà una bella cosa per giocare meglio. L'obiettivo non è quello di andare in grandi club per grandi cifre, l'obiettivo è migliorarsi, giocare e fare bene e soprattutto far vedere le proprie qualità senza dover impressionare per forza con grandi titoli o per grandi cifre. Sì, prima di venire qua il mio procuratore mi ha fatto vedere, mi è piaciuto che la società ha un centro sportivo veramente bello, ma è bene che una squadra di Serie A ha un bel centro sportivo. La differenza si nota subito, anche perché io vengo da quattro anni di Genoa dove comunque non c'è un vero e proprio centro sportivo sia per il settore giovanile che per la prima squadra e trovarsi qui con la primavera, le altre squadre del settore giovanile tutti insieme si sente comunque la vicinanza e la società e l'importanza appunto di avere un centro sportivo così.